Grazie a tutti perché abbiamo pensato, visto che ci sarà anche una mini parte introduttiva che io dovrò fare, di guadagnare qualche minuto in attesa dell'arrivo del senatore Francesco Giaffini che è presidente della Commissione Sanità del Senato e che è stato un po' l'anima di tutto questo nostro incontro. Perché siamo qua? Perché questo evento che vedete anche dalle posizioni, vede al mio fianco Simona Barbaglia e alla mia destra poi l'associazione Respiriamo Insieme, che insieme all'associazione pazienti BPCO e quindi Salvatore D'Antonio hanno voluto fare il punto su quella che è una situazione e una patologia di cui spesso ci dimentichiamo, che non fa parte per così dire del grande circolo della comunicazione e dell'informazione e quindi tutto questo porta, nonostante quelli che sono i numeri, perché mi dicono sicuramente 3 milioni e mezzo di italiani almeno che hanno difficoltà a respirare, che vivono questa realtà, che vivono una realtà che lega moltissimo, e questo è il senso anche della presenza istituzionale, l'aspetto sanitario e l'aspetto sociale. Aspetto sanitario perché sicuramente è fondamentale aumentare la conoscenza su quelli che sono i segnali che questa patologia comporta soprattutto nelle fasi iniziali. È fondamentale fare in modo che le persone, una volta riconosciute e poi sentiremo le esperienze come persone con BPCO, abbiano modo di essere seguiti e monitorati correttamente nel tempo e soprattutto possano aderire a quello che è il trattamento farmacologico che il medico prescrive, perché questa poi è una chiave di successo della gestione corretta della patologia. Terzo aspetto, non meno importante, che esista una sorta di circolo virtuoso che è sia sanitario e quindi a partire, vedo qua Walter Marrock, dal medico di medicina generale come front office di quello che è il paziente come BPCO, ma che coinvolga gli specialisti, che coinvolga tutte le figure sanitarie come i fisioterapisti. Poi avremo modo di capire un po' tutto quanto perché si crea un circolo virtuoso che leghi tutti gli stakeholder di questa patologia. Qua abbiamo le associazioni, abbiamo ovviamente la politica, abbiamo il ministero, abbiamo le società scientifiche, abbiamo AIFA, abbiamo tutte le componenti che possono creare un domani un pochino diverso, fatto soprattutto di attenzione e fatto soprattutto di percezione di una patologia che a volte non ricordiamo, che dovrebbe cambiare la situazione per tante tante persone. Ho detto almeno 3 milioni e mezzo di persone voi pensate al mondo dei caregiver che vivono al loro fianco, caregiver che si trovano in difficoltà perché vuol dire organizzare le giornate, vuol dire avere magari dei trattamenti nelle fasi più avanzate della patologia che possono essere complessi da gestire. Pensate un po', onorevole Cappellacci, quando c'è stata la carenza proprio della distribuzione dell'ossigeno che magari sembra una cosa semplice, banale, ma per chi vive quella realtà diventa un problema quasi insormontabile perché, e il titolo della serata lo spiega, essere a perdifiato, non avere il fiato, non si fa forse abbastanza rumore ma diventa una malattia che in qualche modo limita moltissimo la vita. Quello che dovremmo cercare di fare tutti è, attraverso la conoscenza, fare in modo che questa limitazione della vita sia la minore possibile, arrivi il più tardi possibile e che la persona possa vivere al meglio la sua qualità di vita per il periodo più lungo possibile, anche in termini di sistema sanitario nazionale che si trova comunque a pagare dei costi che sono significativi per la gestione di questa patologia. Pensate, tutto questo lo faremo in circa un'ora, un'ora e un quarto, tutti assieme, con tante tante esperienze, sempre nell'attesa del senatore Zaffini, io partirei con l'onorevole Cappellacci per darci un po' il punto dal suo punto di vista di chi si occupa di sociale. Si dice spesso, soprattutto nei bilanci poi sanitari, da regione a certi componenti, il comune a altri componenti. Ecco, come si può dare un'integrazione in questa logica di circolo virtuoso per queste persone e per le loro famiglie? Buonasera a tutti, si sente male, provo ad avvicinarmi un po' e a sollevare il tono di voce. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, ringrazio gli organizzatori di questo invito al quale sono molto veramente lieto di partecipare, le mie non sono le classiche prove di circostanza. Non potrò essere presente per l'intera durata dell'evento a causa di impegni pregressi, però insomma ci tenevo a dare questo mio piccolo contributo. Io sono Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera che in realtà come core business ha la salute, perché affari sociali e salute, quindi sono interessato da entrambi i punti di vista, ammesso che si possa immaginare che ci sono punti di vista differenti, perché il tema è sostanzialmente lo stesso intorno al quale ruotano più aspetti e più problematiche. Vengo subito al dunque, partendo da una battuta fatta con la Presidente Barbaglia. Allora, qui l'evento di stasera serve più che per fare il punto della situazione importante e certamente utile anche per segnare una strada per la prospettiva futura e in questo senso la presenza di tutti gli attori coinvolti serve a stringere un'alleanza, come si diceva. Allora da questo punto di vista dichiaro subito la mia disponibilità e assumo obbligazioni. Il risultato di questi tempi è difficile da assumere, però l'obbligazione di mezzi la assumo interamente al 100%. Siamo in un momento molto particolare per il Paese, per la sanità, la salute in Italia e con le conseguenze che questa ha sul piano sociale, perché veniamo da una pandemia che ha sconvolto le vite di tutti quanti e che ha acuito, se così si può dire, i problemi quelli antichi e atavici della sanità. E quindi il momento è particolarmente propizio perché siamo in una fase di riflessione, di ricostruzione vera e propria. Questa è un po' l'equivale al dopoguerra dei nostri nonni. La pandemia ha tolto certezze che sembravano acquisite, consolidate, la socialità, lo studio, cose che sarebbe stato impossibile immaginare che potessero mancare o si potesse rinunciare, ma poi ha creato tutta una serie di problemi che sono l'occasione giusta per fare il punto sulla situazione della sanità, anche con risorse importanti che vengono dal piano nazionale di ripresa e resilienza e che sono un'opportunità in più. Ma poi a questo si aggiunge, parte ancora da più lontano, ma che impatta anche con questa situazione, un momento positivo dal punto di vista di quelle che sono le riforme. Si parla oggi di riforme da tanti punti di vista, da una riforma complessiva del sistema paese e io ovviamente sono particolarmente interessato e attento a quella che riguarda la sanità. E questa riforma, come voi sapete, come sanno gli editi ai lavori, parte proprio partendo da un presupposto, cioè rivedere quella posizione ospedalocentrica della sanità e distribuire meglio con un'attenzione al territorio, alla rete e ai servizi sul territorio. E credo che sia assolutamente calzante e che caschi a pennello con quelli che sono i problemi di questa patologia, ma non solo della BPCO, ma di tante patologie, che hanno dei fattori comuni, che sono quelli che si riferiscono intanto alla diagnosi, alla prevenzione, a tutto quello che ruota intorno ai pazienti. Si è parlato di caregiver, che sono un elemento fondamentale e importante. E quindi la necessità di mettere in campo tutte le risorse, ma soprattutto in una logica che sia una logica che possa superare quella passata e che possa proprio privilegiare quegli aspetti che meglio di altri consentono di intercettare in fase precoce la malattia, di assicurare tutto il supporto sia dal punto di vista informativo, ma poi in particolare dal punto di vista terapeutico, per quelle che sono le terapie, per quella che è l'assistenza che questi pazienti hanno diritto e necessità di avere. Peraltro, è stato detto, è una malattia che ha un impatto importante sul sistema paese, ha un impatto importante in termini di numeri. Oggi un altro dei temi su cui si discute, a mio modo di vedere, in modo assolutamente sensato e appropriato, è proprio quello che riguarda in generale i cosiddetti costi della sanità. Per superare quella che è la logica del costo è andare alla logica dell'investimento in sanità, perché investire un euro in sanità oggi non significa scontare un costo di un euro, ma significa risparmiare in prospettiva, perché i costi sociali delle malattie hanno degli effetti indiretti molto rilevanti e importanti, ma non solo, anche i costi diretti della gestione della malattia, dell'ospedalizzazione che invece attraverso pratiche di prevenzione, di diagnosi precoce, di accompagnamento potrebbe essere evitata. Quindi un impatto determinante, importante, non solo sul piano della salute, ma anche su quelle che sono le conseguenze in termini più generali del sistema. E allora, tornando alla domanda iniziale, credo che nel caso della BPCO, come di tante altre malattie che non sono abbastanza conosciute, soprattutto rispetto alle conseguenze e all'importanza che hanno, in termini negativi e drammatici, sulla vita delle persone. Mi pare che sia la BPCO una delle prime cause di mortalità, la terza, quindi stiamo parlando veramente di patologie molto molto impattanti e importanti. E quindi ecco che fare un ragionamento a tutto tondo e cercare di innescare, sia nella fase relativa alla riforma e quindi anche all'attuazione della riforma del DM77 in termini concreti, sia di intercettare le risorse, e come dicevo prima ce ne sono tante, che sono destinate alle strutture sul territorio e che sono destinate agli strumenti che sono necessari. C'è tutta una fase importantissima della digitalizzazione, c'è la parte relativa al personale sanitario, insomma tutti elementi che se dovessimo fare un esame mirato su questa patologia, su questa malattia, potremmo dire che sono quasi cascano a pennello e sono ad esatta misura delle problematiche che devono essere affrontate e possibilmente risolte. Grazie, grazie all'onorevole Capellacci anche perché è veramente un quadro che si deve costruire. L'obiettivo di questa sera è mettere assieme, a me veniva in mente mentre parlava l'onorevole, i nostri polmoni che sono fatti di tanti alveoli, poi che gli alveoli sono le unità che fanno lavorare, dove facciamo gli scambi e tutto. Ecco, come se costruissimo un puzzle con questo nostro impegno di stasera. Cerchiamo di mettere ognuno il proprio tassello per migliorare quello che è il respiro. Chiedo a Simona Barbaglia, a Salvatore D'Antonio, sempre aspettando il senatore Zaffini, un breve flash perché poi vorrei che fossero soprattutto i pazienti a ricordarci, a chiederci che cosa serve davvero in termini di conoscenza. Prego Simona e poi Salvatore. Sì, credo che, ha già detto benissimo l'onorevole Capellacci, credo che sia fondamentale e importantissimo costruire un'alleanza che segni tra tutti i presenti, tra tutti gli stakeholder che ci sono qui oggi, che segni davvero il solco di una nuova via e l'onorevole Capellacci non sa a che cosa ha accettato, nel senso di collaborare. Esatto, non sa che cosa lo aspetta, ma è davvero importantissimo che tutti insieme lavoriamo lavoriamo affinché si creino risposte realisticamente proponibili ma che rispondono esattamente ai bisogni dei pazienti e che si tenga conto, e questo è un altro grande motivo per cui noi associazioni abbiamo voluto questo incontro oggi, si tenga presente, si tenga conto che le associazioni di pazienti oggi sono una grandissima risorsa per il Servizio Sanitario Nazionale, una risorsa che può co-costruire insieme alle istituzioni, insieme alle società scientifiche, una via che sia davvero una via utile e percorribile per il paziente, perché a volte si costruiscono vie su cui poi il paziente non può camminare, mentre invece insieme alle associazioni di pazienti, insieme ai clinici che tutti i giorni seguono i pazienti, insieme alle istituzioni a cui queste figure portano le richieste, i bisogni, si può davvero costruire una strada su cui i pazienti possono camminare. Ed è importante. Salvatore D'Antonio, Associazione Pazienti BPCO, oltre che medico, perché è importante che le persone si rendano conto di cosa vuol dire BPCO? Il dato che diceva prima l'Onorevole, se andiamo per la strada e chiediamo qual è secondo voi la terza causa di morte, forse la BPCO la troviamo decimo, quindicesimo, la percezione è diversa dalla realtà. È una malattia sottostimata, sottodiagnosticata, ma soprattutto non c'è una percezione di patologia spesso da parte dei pazienti. Lei ha detto di creare una strada, aiutateci a camminare su questa strada, noi abbiamo bisogno della vostra alleanza, lei ha centrato il problema, uno dei problemi più importanti è intercettare questi pazienti. C'è una zona grigia della progressione della malattia che va intercettata. Purtroppo abbiamo dei problemi e voi politici ci potete aiutare a superare certe difficoltà che abbiamo oggi proprio nell'intervenire nella zona più pericolosa che è questa fascia grigia, questa fase preclinica della patologia. Ecco, questo è un discorso che noi stiamo portando avanti e cerchiamo di sensibilizzare proprio la classe politica perché ci aiuti a far emergere questa problematica e a far sì che questa patologia sia affrontata il più rapidamente possibile nella miglior misura possibile. Per dare questo tipo di contributo io chiamo, anche perché sentire dalla viva voce del paziente qual è stato il suo percorso... A me manca già il fiato. Eh, vedi cosa vuol dire vivere la situazione. Io il Covid l'ho avuto in forma grave con una polmonite bilaterale interstiziale e con 15 giorni di terapia d'ossigeno a 24. Quindi insomma so che cosa vuol dire avere... Il malato respiratorio si accorge di star male 15-16 volte al minuto. Non credo che ci sia un'altra patologia. E devo dire però che ho fatto tutti i controlli le lastre, le attacche sono tutte assolutamente positive però io da allora ogni tanto ho ancora la percezione di fame e d'aria quindi insomma mi immedesimo molto in questo tipo di situazione. Marco Tozzini e Mario Monaco il malato al podio, i pazienti per raccontarci questa percezione questa fame e d'aria come cambia la vita e come si è accorto Marco Tozzini di avere la BPCO. Ne aveva mai sentito parlare prima? No, il microfono va bene. Perché tra l'altro sono... Marco ti devi abbassare perché io sono una anetta ma tu sei abbastanza alto devi portarti alla mia altezza. Diciamo che io me ne sono accorto e qui sono perfettamente d'accordo con quello che diceva il dottor D'Antonio perché io probabilmente mi sono accorto nel 2016 ma probabilmente era già da molto prima e io stavo male perché io piano piano avevo già rinunciato lentamente a lasciare tutte le mie attività sportive piano piano avevo smesso di giocare a pallavolo di giocare a tennis si può rinunciare poi le passeggiate in montagna piano piano stavo lasciando tutto. Diciamo che io me ne sono accorto una mattina a colazione ora sembra una battuta ma stavo facendo colazione alla mia compagna e lei ha detto che la notte mentre respiravo sentiva che facevo dei sibili. Questa cosa siccome io sono stato un fumatore e questo è un altro problema sicuramente per noi sono stato un fumatore fino all'età di 15 anni fumando più di un pacchetto di sigarette di giorno che una quarantina d'anni diciamo questa storia dei sibili mi ha messo un po' l'allarme e ho subito contattato il mio medico che come tutti i medici generici ha risolto il problema e mi ha mandato da un pneumologo il quale la prima visita ha trovato subito questa presenza importante di questi sibili e mi ha fatto fare degli accertamenti delle analisi e una spirometria e alla spirometria eccoci la grana è uscito tutto quello che doveva uscire io mi aspettavo il risultato la dottoressa provava bene e mi ha detto ma lei Tozzini come sta? cioè con aria preoccupata e io non mi sto a dire che ho stato d'animo di quel momento lì poi mi ha accompagnato nell'ufficio e mi ha spiegato e il risultato della spirometria era piuttosto preoccupante e quindi c'era c'era da fare ecco come si gestisce oggi uno sportivo la BPCO come patologia che ti toglie piano piano un pezzetto della tua vita cosa fa oggi? uno sportivo fa po' la BPCO fa veramente po' nonostante io ci stia lottando ci lotto tutti i giorni anche perché fortunatamente oggi io non so se mi reputo fortunato se sono stato ben seguito se non sono stato ben curato ho una buona terapia in allatoria riesco a fare cose che già tre anni fa tre o quattro anni fa non potevo più fare io ho venduto una casa casa mia la mia casa personale non come dicevo prima la signorina non per motivi economici ma per perché avevo due rampe di scala un esterno un interno non riuscivo più ad andare in casa non riuscivo più a portare la spesa in casa facevo fatica allacciarmi le scarpe a fare la doccia cioè diventa veramente una cosa invalidante al cento per cento poi io non so se un milano se la professione c'è una minciotta ha trovato la cura giusta cioè diciamo mi ha cambiato cura diciamo sono sincero adesso sono anche molto seguito devo essere sincero adesso mi prenotano loro le visite sono nel gruppo quindi c'è l'organizzazione questo è un altro degli aspetti importanti c'è l'organizzazione questo è un altro degli aspetti importanti le chiedo ancora un breve flash così poi volevo sentire anche Mario Monaco cosa chiede dal suo punto di vista cosa si aspetta cosa vuol dire oggi seguire correttamente la terapia un problema è una cosa difficile ci si abitua no ci si abitua diciamo io però mi metto nei panni io andavo a dare le visite trovo queste persone anziane a una certa età che hanno difficoltà anche solo a coordinare i movimenti per assumere la malattia per assumere il medicinale cioè io credo sia una cosa molto difficile cioè li vedo in grosse difficoltà e sono sincero qualche anno fa io ero con quella difficoltà lì io a usare l'inalatore mi ha insegnato ce l'ha lì accanto e una mattina una sera lei è una maestra di inalatore sa che incontra la gente per la strada dice esatto perché io lo facevo male no no questo è importante per dire davvero poi sentiremo tutti gli esperti quanto conta avere questa sorta di rete di network Mario Monaco cosa dopo questa esperienza un breve flash per dirci cosa si aspettano oggi i pazienti dal futuro della sfida alla BPCO intanto buonasera grazie dell'invito mi chiamo Mario Monaco ho 78 anni sono un architetto per venire qua ho fatto 3 chilometri a piede questo grazie per il fatto di aver preso durante un sopralluoco ho respirato lana di vetro e mi è stato fatto mi sentivo così e il dottore mi ha detto di fare degli accertamenti in base a questo accertamento è venuto fuori un'allergia questa allergia per 3 anni ho fatto dei vaccini dopodiché durato diverso tempo ho smesso ripreso e poi ho trovato un bravo medico il dottor Pedro Ianni del policlinico che mi ha in cura da 20 anni questo mi permette di fare sia attività sportiva che camminare fare quello che posso a volte sempre sotto malattie sotto farmaco e inalatori in continuazione e quanto ne ho bisogno non sento perché sono fortunato anzi abbastanza fortunato perché anche io ho avuto il covid sono stato ricoverato 12 giorni al policlinico Umberto I e sono fortunato perché intorno a me come dicevo 8 pazienti solo io sono uscito fuori da quella situazione perché avevo un colpo il cortisone e altre cose premesso questo dico che è importante riuscire a prevenire prima come è successo a me a 38 anni la malattia attraverso degli accertamenti se non mi fosse stato diagnosticato in quel momento stessa se non avesse respirato la nativetro io non avrei mai saputo questo penso proprio nell'ambito del lavoro nelle fabbriche e soprattutto anche in città i tassisti i vigili che dovrebbero essere posti a visite periodiche per poter accertarsi di questa malattia penso che tanto ha detto anche l'altro collega qui paziente che mi piace collega è una bella cosa avete dato un sacco di compiti all'onorevole Cappellacci che ci deve salutare perché no ma io credo che l'onorevole Cappellacci questo è un problema che ha indovinato plenissimo qual è il problema il problema è di avere di più nelle fabbriche soprattutto e sulla piazza la piazza intendo dire dappertutto dove c'è possibilità di poter fare questo ci vogliono investimenti dubbiamente queste sono importanti ma non possiamo solo portare una patologia che si correla al fumo che si correla all'ambiente che si correla all'inquinamento stiamo tutti veramente attenti credo che sia importante fissare dei punti vi ringrazio perché adesso sentiamo i punti e io farei un applauso per loro perché portare portare questo tipo di esperienza sicuramente è complesso ma ci fa capire bene di cosa stiamo parlando perché poi si rischia altri credo che ci sia parecchio da fare sì devo dire noi in questi giorni abbiamo farato un provvedimento che prevede una serie di screening per altre malattie altrettanto diffuse come il diabete e la celiachia io penso che si possa incominciare per esempio a ragionare anche da una ipotesi di questo genere quindi un provvedimento che possa consentire di attivare questa fase dello screening e della prevenzione che mi sembra di capire è in realtà nel momento in cui si affronta il problema facile da individuare ma bisogna che ci sia un'attività come dire di ricerca preliminare fatta in modo generalizzato su tutta la popolazione e quindi si si diceva prima la spirometria che è una cosa semplice di poco costo che se però le persone non hanno la percezione di doverla fare magari fanno dell'altro e quindi questo è un bel impegno grazie grazie onorevole io presento tutti i relatori che si seguiranno uno dopo l'altro in questa nostra oretta che passeremo assieme portando i vari punti di vista per costruire grazie di nuovo questa sorta di puzzle di mosaico che portiamo avanti prima fila poi avremo Devo Radiso Salvatore D'Antonio sta qua con me arriverà l'onorevole Simona Luizzo che fa parte della commissione affari sociali della Camera abbiamo già Rosanna Mariniello direttore ufficio quinto direzione generale programmazione sanitaria ministeriale della salute Giovanni Capelli direttore centro nazionale per la prevenzione delle malattie la promozione della salute dell'istituto superiore di sanità collegato da tempo con noi Pierluigi Russo cui poi chiederemo un commento buonasera dottor Russo che è direttore dell'ufficio registri e monitoraggio di AIFA e poi tanta componente medico-sanitaria Stefania Greco che è presidente della sezione Lazio dell'Aipo Giosuè Lora delegato per la società italiana di pneumologia Mario Del Donno presidente società italiana di pneumologia interdisciplinare sono tantissime le società degli pneumologi ci sono quindi avete ci sono spero Mario si scusa del Donno ok Del Donno non c'è scusatemi sapevo che Andrea Lanzan invece c'è che è presidente dell'associazione riabilitatori insufficienza respiratoria Walter Marrocco segretario scientifico della FIMG buonasera Walter Francesco Parlo Lombardo coordinatore settore pneumologico società italiana medicina generale cure primarie SIMG e poi si collegherà se non l'è ancora collegato Andrea Mandelli chiedo a tutti un flash per aggiungere un tassella a questo puzzle che stiamo costruendo partiamo nell'attesa che aggiungano l'onorevole Loizzo e il senatore Zaffini col dottor Lombardo con le due grandi questioni vi chiamo a parlare sul podio che riguardano la BPCO prevenzione di angiosi sono uscite la medicina generale deve avere questo impegno se tutti ci impegnassimo e partiamo dal fumo di sigaretta a ridurre i fattori di rischio della malattia i decessi potrebbero fermarsi invece ai mesi continuiamo cresceranno e quella statistica di cui parlavamo prima probabilmente vedrà ancora salire nella graduatoria la BPCO cosa deve fare la medicina generale in tutto questo alla logica anche del PNRR saluto tutti credo che il dottore D'Antoni abbia chiamato prepotentemente in causa della medicina generale parlando di sottodiagnosi e di aria grigia cioè in pratica traduciamo diagnosi ritardata purtroppo l'abbiamo visto anche con le testimonianze dei pazienti mi permettete una brevissima premessa quando ero studente di medicina studiavo una prevenzione primaria secondaria terziaria oggi siamo alla quaternaria e anche sulla diagnosi per poter arrivare a una diagnosi precoce dobbiamo soprattutto partire da una prevenzione primaria e secondaria la prevenzione primaria è quella sugli stili di vita e nei paesi di stile occidentale come è stato detto riguarda soprattutto il fumo di sigaretta oltre che l'inquinamento l'ambiente professionale eccetera la prevenzione secondaria è quella che invece dovrebbe partire da una registrazione in cartella clinica che io definisco ossessiva del dato fumo in maniera che i primi sintomi possano portare a quella diagnosi che non deve essere ritardata ma appunto precoce quindi attraverso quell'esame che ho sentito già nominare la spirometria e che mi permetto di dire non è affatto un esame semplice per chi lo conosce lo fa è tutto tranne che un esame semplice quindi la medicina generale è fortemente chiamata in causa anche perché alla luce della nota 99 si dice che anche il medico di famiglia se ha le competenze può fare la spirometria e ai fini anche di interpretarla per la prescrizione di una corretta terapia il problema è che tutte queste belle cose che sto dicendo registrare il dato fumo evidenziare precocemente i sintomi poi la medicina non riesce a farle e me perché il carico burocratico che grava sulla medicina generale pur con tutta la nostra buona volontà ci pone veramente degli ostacoli certe volte insormontabili spero di essere stato breve breve sicuramente ma ci ha messo tanti di quei problemi che volevamo procedere con una certa tranquillità ma a questo punto io credo che il dottor Capelli visto che poi è vero comunque bisogna partire dai dati e dall'informazione per creare quello che è il percorso e voi avete sicuramente i dati non c'è però ad oggi forse il dottor Capelli forse può essere migliorato un sistema nazionale di raccolta dati per la sorveglianza di questo tipo di patologie e arrivo tutto questo poi porta e fa un po' si mette al fianco della scarsa conoscenza barra competenza barra attenzione vogliamo fare gli inglesi diciamo awareness che piace sempre dell'opinione pubblica su questo tipo di aspetti quindi c'è una doppia sfida visto che la BPCO pesa e pesa tanto pesa dal punto di vista della vita delle persone pesa come causa di mortalità pesa come spesa sanitaria tutto questo non ci dovrebbe portare ad avere un registro o qualcosa di simile a capire di più cosa fare allora il problema è questo noi diciamo sempre che l'epidemiologia è un po' la diagnostica delle popolazioni è chiaro che tutti vorremmo avere dei registri perché avere il registro è come avere la risonanza tra tesla avremo una risoluzione tale da riuscire a leggere dei fenomeni arrivando al singolo individuo al singolo malato teniamo però presente che i registri sono complessi da mettere in piedi hanno una serie di difficoltà legate alla privacy alla standardizzazione dei dati alla standardizzazione delle diagnosi e considerate che i registri tumori quelli per i quali c'è più storia sono organizzazioni che per avere un buon livello a livello internazionale ad essere accettati come dati lavorano i primi anni buttano i dati i primi anni per stabilizzarli per riuscire a raggiungere un certo livello tant'è vero che noi oggi siamo proprio nel passaggio tra i registri locali di tumori in Italia e il registro nazionale gestito dal ministero quindi magari potessimo averlo una delle cose che stiamo facendo anche in istituto stiamo partecipando a dei progetti europei e con i colleghi europei ci confrontiamo proprio su sorveglianze e registri non solo per il cancro ma anche per le altre patologie non trasmissibili e quindi speriamo di portare delle novità e degli esempi e anche degli esempi di interpretazione di tutte le difficoltà nelle quali noi ci troviamo nella raccolta nella armonizzazione dei dati non ci dimentichiamo che delle sorveglianze però le abbiamo per esempio il centro che io ho l'onore di dirigere segue e coordina a livello nazionale le sorveglianze passi e passi d'argento che non sono registri che sono indagini campionarie ma che ci danno qualche informazione interessante per esempio per quanto non si possa scendere nel dettaglio sulle malattie respiratorie croniche ci danno una stima intorno al 7% nella popolazione tra 18 e 65 e 69 anni col passi il passi d'argento ci parla di un 20% di soggetti che dichiarano di aver avuto una diagnosi dal loro medico di malattia respiratoria cronica nell'anno precedente e la cosa interessante è che per esempio notiamo da queste sorveglianze alcuni fenomeni interessanti e importanti per esempio la non ancora abbastanza alto ricorso alla copertura con la vaccinazione antinfluenzale nei soggetti affetti da patologie croniche respiratorie siamo solo intorno al 20 aumentato quasi al 28 dopo l'esperienza del covid negli adulti siamo ancora sotto all'80% intorno al 75 anche dopo il covid negli anziani quindi anche questo ragionamento di tutela della capacità respiratoria anche di fronte a infezioni intercorrente importante e vi lascio un ultimo concetto che secondo me è importantissimo vero c'è poca awareness tant'è vero che tra le domande che facciamo in passi in passi d'argento chiediamo se ai fumatori è stato proposto dal medico di smettere di fumare e abbiamo intorno al 50% stabile soltanto di persone che dichiarano da fumatori che il medico ha chiesto loro di smettere di fumare ho dato questa indicazione e negli anziani oltre 65 anni non siamo sopra il 65 70% quindi questo vuol dire che le sorveglianze alcune cose ce le dicono ci piacerebbe avere dei dati ancora più precisi e con delle risoluzioni migliori dobbiamo lavorare tutti insieme anche perché sia fatta quella che è una prevenzione nei soggetti malati delle patologie intercorrenti e una riduzione cosciente e promozione dei comportamenti di salute nei soggetti che sono a rischio di queste patologie le posso chiedere a dottor Capelli poi lo chiederò anche a tutti quelli che giungono dopo di lei proprio se noi ci ritroviamo qua tra due anni cosa vorrebbe dirci di diverso allora un flash sì ci ragiono un attimo perché allora quello che vi vorrei dire di diverso è che riusciamo a dare dei dati stabili e abbiamo allora io distingo sempre quando io facevo ero docente all'università e sono stato fino a un anno e mezzo fa e adesso sono temporaneamente prestato all'istituto credo che vanno distinti i dati e le informazioni le informazioni sono quelle che cambiano il modo di pensare di qualcuno allora quello che mi piacerebbe è che ci sia prima di tutto una presa di coscienza una capacità di interpretare i dati che produciamo e in questo verrebbe grande voglia di produrne degli altri se i decisori imparano a leggere i nostri dati ad ascoltarli a usarli per prendere le loro decisioni ne chiederanno degli altri e così il sistema secondo me migliorerà in modo virtuoso quello che vorrei è entrare nel merito avere cambiato la mentalità di qualcuno e avere qualcuno che mi chiede altri dati non mi pone il problema non possiamo perché è complicato la privacy non abbiamo i fondi ma mi dice ne voglio di più voglio maggiore risoluzione voglio vedere quanti soggetti mi rispondono in un certo modo per quartiere non per ASL o per regione questa sarebbe una sfida bellissima perché siamo tutti allergici ai dati in Italia ed è quello che a volte dovrebbe guidarci su tante tante scelte soprattutto sanitarie noi cerchiamo di produrre nel miglior modo possibile però siamo disponibili ad aiutare a leggerli ma poi è il decisore che deve leggere ma di fatti l'impegno di questa sera è proprio questo grazie dottor Cappelli grazie a voi Stefania Greco BPCO come malattia cronica che va seguita nel tempo di cui bisogna prendersi cura una presa in carico efficace e una gestione corretta della malattia ce la facciamo oggi possiamo farcela grazie grazie per l'invito io sono qui al posto del professor Carone che è il presidente nazionale AIPO di cui porto i saluti diciamo che i problemi nella presa in carico attualmente sono molto legati ai numeri della BPCO la BPCO è dei numeri molto grandi abbiamo sentito che l'istituto superiore di sanità stima sui 3 milioni e mezzo ma alcuni pensano che sia una stima al ribasso gli pneumologi invece sono purtroppo molti molti di meno per cui diciamo quello che potrebbe aiutare nella presa in carico sarebbe naturalmente l'assunzione di nuovi pneumologi ma anche la definizione di percorsi che aiutino a delineare quali pazienti devono essere presi in carico dagli pneumologi dagli specialisti e quali invece dai medici di medicina generale l'AIFA che è qui rappresentata ha cercato di dare questo tipo di indicazioni nella nota 99 che prescrive diciamo la gestione dei pazienti con forme lievi e moderate che prescrive che la gestione di questi pazienti venga affidata ai medici di medicina generale e agli specialisti invece soltanto vengono attribuite la gestione dei pazienti con forme gravi con forme complesse conforme con una ostruzione più grave per quello che riguarda quello che può essere fatto per migliorare la gestione le cose sono molte francamente quella che mi viene maggiormente in mente però è una cosa che non dovrei dire io come pneumologo e cioè il paziente deve essere più cosciente della sua patologia quindi il paziente deve essere più a conoscenza la deve conoscere meglio la deve gestire in prima persona meglio purtroppo al contrario dei pazienti che abbiamo visto oggi l'architetto che conosce il dottor Petroianni e il suo collega purtroppo la maggior parte dei pazienti questo non lo fanno la maggior parte dei pazienti viene a conoscenza di essere malato quando si presenta al pronto soccorso nei mesi invernali perché ha un episodio di riacutizzazione i pazienti lo conoscono poco e in questo possono fare molto i sistemi di informazione noi come AIPO stiamo cercando di produrre degli opuscoli da distribuire nelle farmacie nelle sale d'attesa degli ospedali negli studi dei medici di medicina generale abbiamo progettato anche dei piccoli cartoon che diciamo possano arrivare anche a dei pazienti più anziani che hanno delle capacità cognitive ridotte e che possano insegnare non solo delle notizie sulla patologia ma anche sulla terapia per esempio le modalità della terapia inalatoria di cui si è parlato tanto che non sono facili da interiorizzare per persone che sono abituate alla terapia che si inghiotte con la classica con la classica pillola quindi stiamo cercando di fare tutto questo e anche questo potrebbe essere così diciamo raggiungere il maggior numero di persone possibili per esempio attraverso le farmacie che potrebbero essere un canale importante per quello che riguarda la gestione ancora una volta non mi vorrei ripetere la spirometria è fondamentale come si diceva però diciamo i servizi di fisiopatologia respiratoria sono stati decimati dal covid perché gli pneumologi sono stati impiegati in altro perché molti si sono dimessi in seguito al covid abbiamo adesso delle liste d'attesa per la spirometria che sono nel Lazio di sei mesi ma mi dicono che in altre regioni sono ancora peggiori quindi la soluzione potrebbe essere quella di allargare ad altre professioni ad altre figure sanitarie di professioni sanitarie l'esecuzione della spirometria quindi agli infermieri ai fisioterapisti ai farmacisti che già fanno gli elettrocardiogrammi e gli alter che negli ospedali non riescono ad essere effettuati altri aspetti importanti che secondo me potrebbero migliorare sono la telemedicina di cui tutti parlano e in cui AIPO sta investendo molto abbiamo un progetto sulla telemedicina che si basa sull'utilizzo del saturimetro quindi una telemedicina piuttosto semplice che elabora diciamo l'integrazione tra i due parametri del saturimetro la saturazione e la frequenza cardiaca e sulla base delle differenze nel rapporto tra questi due parametri cerca di capire quando sta arrivando il momento della riacutizzazione però insomma devo dire che siamo ancora in una fase molto preliminare infine i centri antifumo anche questi con il covid sono veramente scomparsi ce ne sono circa 200 su tutto il territorio nazionale licensisce l'istituto superiore di sanità e molti di questi sono all'interno dei servizi per le tossicodipendenze un aspetto che questa è la mia personale opinione non incoraggia molto il fumatore a rivolgersi al centro antifumo e ancora qui c'è il presidente dell'ARIR la riabilitazione respiratoria che è una terapia di comprovata efficacia per la BPCO insieme alla terapia farmacologica e che purtroppo è di difficile accesso per i pazienti BPCO è complessa no non scappi non scappi dobbiamo fare presto il suo sogno no ma va bene il suo sogno tra due anni la cosa che vorrebbe risolvere che chiede a questa a questo gruppo di lavoro di risolvere dal suo punto di vista una un po' le cose che ho detto diciamo quella che ritiene più importante più pneumologi negli ospedali e soprattutto sul territorio perché noi li abbiamo censiti nel Lazio per solamente come BPCO c'è un'attesa nel Lazio di 600.000 pazienti gli pneumologi territoriali sono 35 quindi lascio a voi faremo i conti grazie grazie dottoressa Diso respiriamo insieme portare avanti se è visto l'adesione e l'aderenza che non è sempre così costante alla terapia l'educazione terapeutica e ci aggiungo anche un tassello che poi anche col dottor Marrocco vedremo quanto sente il paziente e la BPCO visto che in tanti casi si tratta di persone anziane che hanno anche altre malattie quindi dicono ma sai che c'è io curo bene il cuore curo bene le articolazioni perché ho l'artrosi la BPCO vediamo beh lo hanno già detto i medici la BPCO è una patologia sottostimata sottovalutata anche dagli stessi pazienti che spesso hanno comorbidità soprattutto se pazienti anziani e spesso convivono con sintomi se pazienti fumatori quindi la mancanza di respiro il senso di affaticamento sono quasi compagni di vita per un lungo periodo quindi spesso come detto arrivano a quando c'è un evento acuto a rendersi conto dell'importanza della patologia è per questo che il ruolo delle associazioni anche con l'evento di oggi è fondamentale invece per accendere i riflettori proprio sull'importanza della patologia e sulle conseguenze che se non curata adeguatamente questa patologia può portare sulla qualità di vita dei pazienti quindi sicuramente l'aderenza terapeutica è fondamentale è fondamentale in tutte le patologie croniche ma lo è ancora di più rispetto alle patologie respiratorie questo perché hanno un utilizzo specifico del device di riferimento che qualora non venga ben utilizzato perde di efficacia e quindi può portare più frequentemente alle cosiddette reacutizzazioni che incidono sulla qualità di vita del paziente stesso quindi noi siamo un po' scusate l'emozione il ponte il tedunion comunque tra tutti tra il paziente tra i clinici tra i medici di medicina generale e tra tutti anche i caregiver perché è inserito il paziente nel contesto familiare che può essere di grande supporto e può essere un grande alleato per il paziente nel comprendere che la terapia deve essere adeguatamente utilizzata ma anche in modo costante anche laddove magari si alternano momenti di parziale benessere proprio per evitare invece che arrivino poi invece momenti più acuti e cosa vi dicono i pazienti quando chiamano l'associazione dicono ma sa che c'è io non riesco come si fa? Allora le associazioni cercano di ascoltare quindi partire appunto dai needs dei pazienti e rispondere alle loro esigenze accompagnandoli nel percorso di cura e noi abbiamo anche realizzato dei video educazionali perché l'aspetto di prevenzione e di informazione ed educazione è molto importante e quindi abbiamo fatto proprio dei video on demand in modo tale che il paziente possa in qualunque momento visualizzare queste informazioni sia rispetto alla patologia che rispetto anche all'utilizzo corretto dei device di riferimento quindi avete parecchio da fare la cosa che lei vorrebbe risolvere con tutto questo lavoro di gruppo? Ce ne sono tante Eh lo so una una non si può mettere tutto assieme una Noi siamo veramente al fianco dei pazienti costantemente perché per esempio abbiamo anche delle chat dove banalmente il paziente ci chiede è terminato un farmaco nella mia regione nella mia farmacia nel mio territorio dove posso reperirlo e altri pazienti si fanno portatori e co-costruttori nell'aiutare i pazienti cioè si aiutano proprio tra di loro viene creata una community dove si supportano l'uno con l'altro e questo è veramente credo il risultato migliore che si possa raggiungere cioè quando il paziente arriva ad essere coprotagonista non solo del suo vissuto e della sua patologia ma essere di aiuto ad altri questo credo che sia il ruolo migliore delle associazioni e questo è importante grazie Walter Marrocco con una malattia che vabbè il fumo pazienti che hanno una storia dei fumatori hanno altre comorbilità è quello che diceva adesso il discorso anche vaccinazioni dell'influenza mi ha un po' preoccupato il dato che diceva perché per quanto si pressi comunque vuol dire che ci sono tanti messaggi da fare in tutto ciò il medico di medicina generale come fa oggi a gestire uno con la BPCO e come lo gestirà così non faccio la seconda parte la faccio subito con l'avvento della telemedicina si preconizzava un po' questo discorso ma intanto ovviamente grazie per l'invito io sono un medico di medicina generale e ho avuto modo più volte di occuparmi del tema sia per una questione di branca specialistica sia perché negli anni anche in AIFA dove ho militato diciamo ho militato nella CTS per sei anni abbiamo avuto modo di toccare questo argomento allora diciamo che sostanzialmente la BPCO esprime in modo molto chiaro quello che è emblematico quello che è la patologia cronica e quindi io credo che se andiamo a valutare quello che sono i nostri comportamenti il modello organizzativo tutto sommato riusciamo anche a gestire il grosso tema delle patologie croniche tant'è che quando io vedo un paziente che ha una patologia tipo cardiaca cardiovascolare o anche respiratoria subito penso che probabilmente ha anche la BPCO oppure ha uno scompenso cardiaco allora la visione complessiva cosiddetta olistica del paziente è la chiave di volta la visione specialistica va bene nelle situazioni in cui noi siamo riusciti a fare un primo settaggio dei pazienti individuando quelli che non sono gestibili sul territorio e che invece richiedono di intervento specialistico questo significa quindi che cosa uno saper valutare il paziente i pazienti con la BPCO sono sicuramente pazienti con varie morbidità sono pazienti quindi complessi che esprimono quindi una fragilità una fragilità che è emersa molto bene anche prima dagli interventi dei nostri rappresentanti delle istituzioni che non è soltanto di tipo sanitario ma esprime anche una criticità di tipo sociale e ambientale per cui la fragilità del paziente cronico specie se BPCO deve essere valutata non solo misurando i suoi parametri attraverso la spirometria ma va settato nelle componenti biologiche quindi cliniche ma anche psicologiche e sociali perché è fondamentale il sistema di presa in carico quindi io vorrei sollecitare l'attenzione non me ne vogliono gli specialisti su questo tanto ci confrontiamo sempre con loro alla presa globale del paziente perché se no noi non riusciamo ad aiutarlo realmente e allora per avere una presa in carico globale ci vuole la relazione con più figure una relazione non basata sulla conoscenza il rapporto individuale ma su un modello strutturato per cui non è il paziente che fa la palla da biliardo e porta i documenti a destra e sinistra ma lui si trova nel processo assistenziale e non lo subisce se guardate i piani terapeutici nel complesso adesso stiamo un pochettino uscendone fuori l'AIFA devo dire lodevolmente ci sta mettendo le mani e c'è stata la pandemia a farci capire che dovevamo cambiare sistema ma la realtà è che è il paziente che viene dal medico di famiglia il medico di famiglia lo mandato allo specialista lo specialista lo rimanda dopo l'appuntamento sia ben chiaro con le giuste liste d'attesa che mi avete dichiarato per quanto riguarda gli specialisti pneumologi essere enormi e ahimè è la verità e poi ritorna dal medico di famiglia riprescrive il farmaco il paziente arriva in farmacia se arriva con il fiato giusto prende il farmaco a quel punto e allora per chiudere la integrazione è la chiave di volta la presa in carico complessivo del paziente è la chiave di volta io non sono disponibile a subire la burocrazia perché anticipo la risposta alla domanda cosa vorresti per il futuro avere più tempo per i miei pazienti in realtà vengo nonostante tutte le dichiarazioni dobbiamo sburocratizzare eccetera eccetera sempre più coinvolto in questo processo e anche la nota 99 tutti gli strumenti regolatori che dobbiamo seguire prima di arrivare a una prescrizione vuoi di percorso diagnostico che terapeutico in realtà vanno a confrontarsi con che cosa linee guida linee guida delle varie società scientifiche piani diagnostico terapeutici nazionali regionali aziendali se non addirittura distrittuali dopodiché arriva anche la nota il piano terapeutico e io devo in questo flipper distillare la prescrizione per il paziente ecco forse se vogliamo cambiare registro questo deve cambiare e agli specialisti la nota 100 è troppo specialistico centrica per cui è chiaro che non ce la farete mai ma non ce la farete mai neanche diventate tre volte tanto si va soltanto verso una soluzione dove la medicina del territorio viene lasciata nelle condizioni di operare e gli specialisti devono essere messi nelle condizioni di operare ma sui casi selezionati grazie 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 a Walter vi ha dato un sacco di incarichi io devo richiamare il dottor Lombardo perché non mi ha detto la seconda parte sul futuro che ne ha diritto perché qua altrimenti il dottor Lombardo si è trovato inizialmente dice no perché poi deve partire e quindi volevo chiedergli un attimo questo flash del migliore dei mondi possibili Walter Marrocco dice sempre meno burocratizzazione ce la sogniamo ce la faremo ma il migliore dei mondi è successivo è nato anche io il nostro peggiore nemico è la burocrazia non solo ma ho sentito parlare i dati la medicina generale ha un database che è quello di HealthSearch che riguarda più o meno un milione di assistiti italiani quindi non solo ma i cui dati vengono utilizzati dal rapporto Osmed sui farmaci dalla stessa Istat dall'Istat per l'appropriatezza delle patologie non solo croniche quindi cosa c'è da fare il problema l'ho detto prima anche se parlando per primo abbiamo detto devi essere veloce ho cercato di essere veloce anche adesso devi essere veloce però visto a questo punto il problema è uno lo dicevo adesso con la collega noi continuiamo a parlare della BPCO che mi sembra quella degli stati avanzati e allora se continuiamo a parlare in questi termini di pazienti fragili con difficoltà respiratoria non arriviamo in nessuna parte il vero problema è anticipare la diagnosi allora qualunque progetto qualunque PDTA deve tendere a quella che è la diagnosi precoce e deve tendere alla disassofazione al fumo perché dicevo alla collega poco fa che in medicina generale ho visto negli anni due progetti uno fatto sui pazienti che erano già trattati per BPCO in cui sottoposti a spirometria la prevalenza diminuiva un altro invece progetto di colleghi un po' più illuminati che hanno preso tutti i pazienti era un medicina in gruppo di almeno otto colleghi hanno preso tutti i pazienti fumatori sopra i 35 anni hanno usato allora uno studio di dieci anni fa uno strumentino che si chiama PICO che appena era alterato in collaborazione con gli ipnomologi da fare la spirometria la prevalenza si è raddoppiata cioè quali sono quindi quei pazienti che ci mancano ma su cui dobbiamo intervenire perché sono quelli che poi visto che parliamo di futuro evitano di arrivare all'insufficienza respiratoria quindi anticipare la diagnosi ripeto questi colleghi l'hanno fatto e i risultati ci sono stati quindi partiamo dal fattore di rischio dai sintomi facciamo quel benedetto esame che si chiama spirometria ma se qui è sei mesi dalle mie parti e ancora di più non solo ma se mi permettete di dire la vera criticità della nota 99 è quando parla di spirometrie globali come se fosse facile farle sono pochissime le cabine platismografiche sul territorio e quindi gli esami di secondo livello vengono però ripeto la mia speranza per il futuro è che riusciamo a fare la diagnosi di questa patologia non quando il paziente non respira ma fatta all'inizio perché se lo inquadriamo lo convinciamo a smettere di fumare forse gli evitiamo poi tutti quei problemi che i due pazienti ci hanno detto grazie grazie stiamo tra l'altro se ci vuole applauso perché è bello perché si recita quasi a soggetto questa è la cosa più bella perché per costruire veramente dei tasselli bisogna fare venire le cose che devono esserci perché altrimenti ripetiamo e non ha tanto significato ora sempre in questi tempi così comorbidità BPCO con altre malattie croniche riacutizzazioni che si fa perché qua stiamo parlando molto di territorio poi ahimè purtroppo ogni tanto le persone arrivano anche in ospedale sì grazie a tutti grazie dell'invito ringrazio a nome del professor Vancheri presidente della SIP sì sicuramente il paziente BPCO è un paziente complesso in cui oltre le comorbidità la riacutizzazione diventa un evento drammatico nella storia della BPCO le riacutizzazioni sono quegli eventi in cui il paziente sente che aumenta l'affanno aumenta la tosse aumenta il catarro il catarro l'espettorato prende un colore diverso diventa già all'astro e ovviamente il paziente inizia a respirare di meno a fare di meno o quindi a essere meno autonomo sono degli eventi considerati drammatici non solo per l'evento acuto ma anche perché questo poi in futuro porta a una riduzione della funzionalità respiratoria una riduzione dell'autonomia del paziente e di conseguenza una riduzione della tolleranza all'esercizio che è un valore molto molto importante per il paziente abbiamo sentito prima non riuscivo a fare le scale quella è la tolleranza all'esercizio e in ultima analisi una riduzione della qualità di vita cioè il paziente dopo ogni riacutizzazione peggiora la qualità di vita però una cosa che ad esempio molti non sanno è che dopo una riacutizzazione di BPCO la sopravvivenza la mortalità dei pazienti è peggiore di quella di un infarto del mio cardio questo è un dato che ad esempio la pneumologia non è riuscita a stressare così tanto i cardiologi sono stati molto più bravi di noi però è un dato molto importante cioè i pazienti dopo una riacutizzazione di BPCO che porta in ospedale muoiono di più rispetto agli stessi pazienti che hanno avuto un infarto un dato abbastanza importante cos'è che si può fare è ovvio che ci sono due trattamenti che si fanno uno in acuto e uno in cronico quello in acuto serve a salvare la situazione in quel determinato momento se è una riacutizzazione lieve si aumenta la terapia broncodilatatrice se è una riacutizzazione un po' più grave diamo un po' di cortisone il cortisone per via orale e diamo l'antibiotico se è più grave ovviamente il paziente deve andare in ospedale diamo farmaci più importanti quindi maggiori dosi di cortisone maggiori antibiotici diversi e probabilmente farà ossigenoterapia ventilazione eventualmente terapia intensiva tutto questo per quanto riguarda l'acuto ma la vera sfida come abbiamo detto non è tanto l'acuto in questo momento quanto il cronico e quindi sostanzialmente migliorare la terapia stiamo parlando di pazienti che sono già con una diagnosi di BPCO in questo determinato caso di conseguenza quello che dobbiamo fare è migliorare la terapia oggi ci sono terapie molto più importanti e diciamo più evolute rispetto a quelle che c'erano prima parliamo della duplice terapia la terapia quindi con broncodilatatori e antimuscarinici che è la terapia base della BPCO oppure una triplice terapia nei pazienti più gravi o con determinate caratteristiche che hanno dimostrato essere molto molto efficaci nel ridurre le reacutizzazioni però sarebbe illusorio pensare che la terapia fa tutto la terapia è molto importante se il paziente lo fa abbiamo sottolineato più volte l'aderenza alla terapia nel paziente respiratorio l'aderenza alla terapia è un'aderenza un po' diversa perché non è solo la pasticca che prende e mette in bocca facile questo lo sappiamo fare tutti il problema è che esiste una tecnica la tecnica è inalatoria a voi l'hanno spiegata magari non all'inizio la tecnica inalatoria purtroppo non è facile non è molto difficile però deve essere spiegata deve essere controllata e come forse si diceva prima questo richiede tempo il tempo o lo dedichiamo al paziente o lo dedichiamo a riempire le carte quindi tutti noi vorremmo riempire meno carte e avere più tempo per il paziente perché chi è medico l'ha fatto per questo il suo proprio lavoro quindi in conclusione direi sì le reacutizzazioni sono un evento drammatico ma bisogna curarle ma sostanzialmente bisogna prevenirle prevenirle grazie alle terapie e grazie al lavoro di squadra anticipo la domanda cosa voglio nel futuro direi la pace nel mondo probabilmente questo non so se è troppo per quanto riguarda la pace respiratoria magari la pace respiratoria la pace e la serenità del paziente però io spezzerò una lancia a un'altra categoria la parte che manca nel respiratorio che manca seriamente è il tecnico di fisiopatologia respiratoria esistono tanti tecnici ci si lamenta tra virgolette che mancano le spirometrie i tecnici di fisiopatologia respiratoria sono la chiave per collegare l'oppromologo con il territorio grazie grazie perché mi ha risposto anche al passaggio successivo la riabilitazione lanza importante perché poi in tutto questo percorso aiutare le persone a respirare bene oltre ai farmaci è fondamentale io ricordo che una volta si sta ta 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 nella schiena qualcosa di simile ecco sì ci siamo ci siamo evoluti c'è un po' di evoluzione io ricordo infatti ho detto ricordo così si capisce anche che sono anziano ma è molto importante è molto importante la dottoressa Greco l'ha sottolineato bene la fisioterapia respiratoria in questi anni è riuscita a dimostrare a mostrare i massimi gradi di evidenza scientifica nel migliorare la sintomatologia nel migliorare la capacità di esercizio e alti livelli di evidenza anche nel ridurre le riacutizzazioni dopo che un paziente ha avuto una riacutizzazione questa è un'altra cosa molto importante perché abbiamo visto come si è in grado una riacutizzazione di peggiorare in maniera drammatica proprio il percorso della patologia del paziente ho ascoltato alcune delle esperienze che sono state presentate oggi riguardo la sintomatologia la mancanza di fiato e quindi quello che spesso si viene a innescare che è quella spirale della dispnea che è tanto drammatica perché porta le persone che iniziano ad avere una mancanza di fiato a ridurre progressivamente le proprie attività siamo partiti da un'attività sportiva piano ridotta ma eravamo arrivati a un piano di scale e quindi a dover cambiare abitazione proprio perché c'era questa mancanza di fiato ecco questo è drammatico è una delle problematiche più importanti è una delle cose che tutti insieme e quindi mi ha fatto molto piacere che sia stato sottolineato da più persone oggi l'importanza anche della della riabilitazione dei fisioterapisti perché tutti insieme bisogna riuscire a rompere questa questa spirale e permettere alle persone di intraprendere un percorso invece di riadattamento allo sforzo all'esercizio fisico di mantenimento dell'esercizio fisico e questo sia nelle fasi precoci quindi anche da questo punto di vista cercare fin da subito di aumentare quella che è la consapevolezza da parte anche di chi riceve una diagnosi di ppco che non è che avere una diagnosi di ppco e inizia una terapia farmacologica vuol dire per forza essere in una condizione di malattia tale da non poter fare dell'attività sportiva questo dell'attività fisica non è così è importante che venga fatta è importante che venga fatta con persone con professionisti che siano in grado però di gestirla in maniera adeguata di formare le persone a svolgerla in maniera adeguata e su questo penso che sia effettivamente uno dei percorsi che bisogna fare uno dei percorsi che si sta facendo e si sta facendo bene anche in questa collaborazione con l'associazione dei pazienti perché poi fondamentalmente come si è detto tante persone non percepiscono la propria patologia nel momento in cui la percepisco si sentono limitati fin troppo e non conoscono quali possono essere le strategie per uscire da questa condizione ecco una delle strategie è quella di affidarsi ai professionisti che da questo punto di vista possono davvero modificare e cambiare la storia della patologia le posso chiedere in un flash il fisioterapista oggi respiratorio è compreso nei PDTA da tutte le parti è una figura che spunta un po' così diciamo che come si è visto è sicuramente una figura che i professionisti che i medici che tutte le società scientifiche sanno che adesso è fondamentale fino a qualche anno fa mancavano delle evidenze in quest'ambito adesso ci sono e sono lampanti soprattutto sul paziente BPCO non è sempre compresa non è sempre inserita e non sempre purtroppo i fisioterapisti possono partecipare anche alle realizzazioni allo stendere questi PDTA perché purtroppo da questo punto di vista ci sono ancora delle dinamiche che non dappertutto sono virtuose ma penso che eventi di questo genere servano proprio per creare questo meccanismo virtuoso per migliorare anche questi aspetti hanno proprio questo obiettivo grazie perché abbiamo ancora 3-4 relatori una ventina di minuti si è collegato con noi Andrea Mandelli che è presidente della federazione degli ordini dei farmacisti italiani dottor Mandelli noi facciamo un po' di chiacchierate di punti su come le diverse professionalità potrebbero offrire delle prospettive per disegnare un po' un futuro di trattamento per la BPCO ovviamente anche partendo dall'awareness e dall'attenzione a quella che è la patologia che spesso non viene diciamo viene un po' sottovalutata si parla di tosse da fumo e basta la farmacia la farmacia dei servizi diventa un tassello chiave in questo percorso di conoscenze e diagnosi precoce sì bene buongiorno a tutti prometto che sarò breve così riusciamo a insomma essere veloci ed efficaci sì certamente il farmacista in questi tre anni ha fatto sicuramente un salto di qualità nella sua capacità di essere vicino al paziente da sempre abbiamo un ruolo fondamentale ancora più dopo la pandemia questo rapporto unico che il cittadino ha col paziente ma ancora più questa capacità del farmacista di fare qualcosa in più è diventato importante d'altronde anche recentemente la federazione ha affidato a Ipsos al professor Pagnuncelli il compito di fare una fotografia di che cosa volessero gli italiani rispetto a quello che era stato l'esperienza del covid sul territorio con le farmacie loro ci hanno detto con molta tranquillità che il farmacista è il professionista della salute forse più accessibile in questo momento non c'è sabato non c'è domenica non c'è festività non c'è notte non c'è giorno in cui un farmacista non sia disponibile sul territorio soprattutto in un'Italia dei comuni quindi fortemente parcellizzata e in questo senso noi possiamo fare molto d'altronde proprio la legge sulla farmacia dei servizi parla di servizi di primo livello e di secondo livello il primo livello è quello riferito direttamente al paziente il secondo livello sono quelle che sono le cosiddette campagne di informazione di cui tanto il paese avrebbe bisogno in un momento così particolare quindi il farmacista nei servizi di primo livello può avere anche un ruolo molto importante nell'accompagnare il paziente con questa patologia anche mettendo a disposizione tutta la sua capacità di anche essere a contatto con lui per fargli imparare a usare i device per tenerlo monitorato per ragionare di quell'aderenza alle terapie che è uno dei grandi pallini della federazione degli ordini dei farmacisti italiani abbiamo lo studio più importante pubblicato sull'aderenza alle terapie condotto con l'università del Kent e con la London School of Economics perché ha valutato ovviamente solo gli aspetti di natura economica non quelli di natura sanitaria che sono quelli a cui teniamo ovviamente di più e ha dimostrato come il farmacista potrebbe essere risolutivo in questo tema dell'aderenza quindi quello che posso dire è che ragioniamo di prossimità la prossimità sicuramente va fatta con il DM77 cioè la rete dei professionisti che si mettono al servizio mettono al centro il cittadino per poterlo diciamo aiutare in un momento più o meno complicato della sua vita di salute e con il DM77 ragionare di questa rete che possa con le farmacie dei servizi trovare la migliore maniera per essere al piacco del cittadino grazie grazie ad Andrea Mandelli tanto ci ha raggiunto il senatore Zaffini stiamo prego che abbiamo stiamo facendo senatore un grande giro venga venga qua che l'abbiamo tenuto a questo posto eh sì sì così per il cavaliere sì sì stiamo facendo un grandissimo giro per cercare di costruire una sorta di mosaico e quindi se a tempo le chiederei di ascoltare le ultime due passaggi che abbiamo abbiamo visto il medico di medicina generale il le figure degli specialisti le figure della fisioterapia i pazienti e proprio pochi minuti ok allora io le chiederei se ascolta solo la dottoressa Mariniello che siccome abbiamo parlato anche molto di PDTA e di necessità di sistematizzare una situazione la dottoressa dal ministero della salute ci dovrebbe un po' dire quello che accade in futuro e poi magari le rubiamo qualche parola su quello che potrebbe essere l'impegno va bene allora c'è un vantaggio a parlare alla fine perché si sono raccolti tanti spunti e quindi prima praticamente di dire l'ultimo cioè di rispondere all'ultima domanda cosa mi aspetto fra due anni che comunque diciamo è importante voglio dare alcune informazioni la BPCO come praticamente insomma è noto è stata inserita nell'elenco delle patologie del piano nazionale cronicità 14-16 in quel piano che metodologicamente è stato proprio costruito con le associazioni di pazienti e le società scientifiche che rispettivamente hanno fornito sostanzialmente il proprio punto di vista per raggiungere i migliori risultati e la migliore presa in carico dei pazienti con BPCO sono state indicate alcune criticità e su queste criticità il ministero ha lavorato subito perché nel 2017 la BPCO è stata inserita nel DPCMLEA con un elenco di prestazioni codice di esenzione 57 quindi codice di prestazione che consente al paziente di fruire in esenzione di un elenco di prestazioni per il monitoraggio e il follow up della malattia questo è molto importante perché considerato il numero di pazienti che abbiamo detto prima sia incidenti che prevalenti è un impegno molto oneroso per il servizio sanitario nazionale queste patologie sono state inserite anche per garantire una migliore appropriatezza prescrittiva e quindi rispondo a un altro dei temi che oggi è stato sollevato stiamo facendo anche cose ulteriori che sono quelle di aver inserito la BPCO insieme ad altre sei patologie croniche nell'elenco dei PDTA che sono monitorati nel nuovo sistema di garanzia il nuovo sistema di garanzia è il sistema di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza che è partito dal decreto del 2019 adesso si sta praticamente lavorando con indicatori di processo e indicatori di esito quindi molte delle cose che abbiamo oggi detto tipo la copertura dei broncodilatatori che diciamo deve essere assicurata e quindi si sta monitorando qual è il tasso di copertura di questi broncodilatatori poi c'è diciamo altri indicatori di esito che sono collegati alla mortalità 30 giorni dopo la riacutizzazione quindi c'è un sistema di monitoraggio perché come dicevano molti insomma dei relatori che mi hanno preceduta i dati sono essenziali se non abbiamo i dati non riusciamo a programmare non riusciamo a dare nemmeno suggerimenti al legislatore poi un'altra cosa infine perché abbiamo citato anche il discorso dell'informatizzazione dell'importanza della telemedicina eccetera anche questo praticamente è frutto di un lavoro che si sta svolgendo nell'ambito della component 2 della missione 6 del PNRR e che ha visto già una mappatura delle esperienze di telemedicina se si praticamente queste esperienze selezionate già un anno fa perché devono costituire una base informativa per il decisore sono oltre 300 e molte abbiamo rilevato con la parola chiave BPCO fra l'altro con una copertura territoriale anche interessante perché sono non solo nelle regioni del nord ma anche del centro e del sud quindi questo è un indicatore importante del lavoro che stiamo mettendo a terra proprio perché una delle principali criticità che era stata segnalata dalle associazioni di pazienti e dalle società scientifiche nel 2016 era proprio questa la mancata conoscenza della patologia e quindi dei fattori di rischio e infine proprio giusto un secondo vi rubo ancora nell'ambito prevenzione il DPCM LEA nell'allegato 1 ha tutto un praticamente paragrafo sulle possibilità che le regioni hanno quando nel proprio territorio quindi a livello distrettuale individuano un fabbisogno che è relativo a una popolazione di pazienti con determinate patologie di porre in essere attività di programmazione non solo diciamo specifiche per il tabaggismo ma in generale per la valutazione del rischio delle malattie croniche è già un livello essenziale di assistenza mi dice in dieci secondi qual è l'obiettivo che raggiungeremo i dati abbiamo bisogno di dati perché dobbiamo sottoporre sono d'accordissimo con questo discorso dobbiamo sottoporre al decisore informazioni univoche e precise senatore grazie grazie di averci di aver sostenuto la realizzazione di questo evento ma io diciamo che mi scuso come al solito perché purtroppo la vita nostra è veramente complicata guardate contrariamente a quello che uno pensa quantomeno è complicato gestire l'agenda e a questo appuntamento avrei voluto essere più presente ma si incrociano oggi tante cose tutte ci catturano una su tutte è il decreto lavoro che noi come commissione stiamo trattando con la discussione su tutti gli emendamenti e quello che ne consegue in più abbiamo avuto l'aula e fino a questo momento io sono stato bloccato in aula ora quando ci è stato chiesto di assecondare l'organizzazione di questo appuntamento noi siamo stati assolutamente felici di farlo perché questa patologia è una delle patologie che ci vengono attenzionate più frequentemente devo dire che l'intervento della dottoressa della programmazione del ministero mi ha molto rassicurato perché appunto trapela una particolare attenzione nei confronti di questa patologia cronica in generale molto in generale più in generale noi e su questo posso garantire l'attenzione e la sensibilità del ministro Schillaci ci stiamo adoperando per costruire una sanità più attenta alla presa in carico della patologia della presa in carico del paziente attraverso anche una riorganizzazione dei modelli appunto di presa in carico tra territorio e ospedale per la fase acuta non è facile abbiamo raccolto e ricevuto una situazione veramente problematica soprattutto dal punto di vista del personale e della disponibilità del personale ho visto che tra i relatori ci sono rappresentanti dei medici in medicina generale io credo che questa patologia muova molto dall'attenzione del medico di famiglia che deve fare un po' la regia di tutto quello che accade intorno al suo paziente io noi come commissione abbiamo un problema nel trattare le singole patologie per quanto siano importanti perché ovviamente la commissione è un luogo dove si produce normativa dove si producono leggi dove si producono provvedimenti legislativi e il provvedimento legislativo per definizione deve essere generale e non trattare della singola patologia però ci sono parecchi strumenti per attenzionare l'attenzione del ministero su singoli momenti di sofferenza e di disagio e per quanto ci riguarda noi siamo a disposizione e se voi ci farete avere le conclusioni di questa giornata le faremo nostre in una informativa che faremo appunto alla programmazione del ministero e al ministro per il resto siamo e torniamo a essere disponibili per quello che vorrete per assecondare appunto dei momenti di approfondimento che sono assolutamente indispensabili perché guardate la sanità e chiudo la sanità stiamo rapidamente cambiando e sta cambiando sulla spinta dei bisogni e questo non è proprio il massimo non è proprio assolutamente quello che dovrebbe accadere perché significa rincorrere significa invece che programmare che mettere in campo una visione diversa invece che fare manutenzione a questo sistema che noi abbiamo progettato 43-44 anni fa e quindi necessariamente ha bisogno di una profonda manutenzione se non addirittura riorganizzazione e se noi ci muoviamo sulla spinta dei bisogni diciamo che probabilmente facciamo comunque qualcosa di producente però rincorriamo l'animale rincorriamo il problema quello che ci affligge uno dei grandi problemi che noi rincorriamo è la carenza di personale che è stata drammaticamente ricevuta in eredità come si fa a sbagliare la programmazione di chi va in pensione e deve essere sostituito e chi lo sostituisce occorrono 10 anni per formarlo almeno un medico servono 10 anni per formarlo ma tutte le professioni ci siamo trovati a dover affrontare questo dramma un altro problema è la distribuzione di Ilea a macchia di leopardo come minimo schizofrenica quanto meno insomma è stato fatto un provvedimento recentissimo su Ilea è stata allargata la platea di Ilea in modo assolutamente significativo però quello che conta oggi al di là della disponibilità è la effettiva disponibilità e questo avviene solo attraverso una reale presa in carico della patologia e già saremmo un pezzo avanti poi attendere del paziente ecco su questo io do massima attenzione e disponibilità a quello che vorrete fare vi ringrazio ovviamente come associazione e cerchiamo tutti quanti di mettere un mattoncino nella costruzione di questo nuovo edificio della sanità nazionale grazie 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 senatore scusatemi se recupero l'essere arrivato in ritardo andando via presto ma va benissimo è quello che mi succede sempre di fare anche perché fateci avere le conclusioni e ne faremo una nostra iniziativa presso il ministro grazie l'associazione respiriamo insieme e l'associazione pazienti bpco che portano avanti tutta questa condivisione di esperienze e di proposte visto questa seconda parte sicuramente verranno a chiedere di portare avanti dei messaggi importanti grazie molte dottor russo l'abbiamo fatta attendere fino ad ora ahimè la ringrazio per averci atteso perché poi avremo le conclusioni di Antonio e Barbaglia AIFA per i pazienti bpco come si può fare in modo che poi un'agenzia al di là degli atti formali diventi una sorta di collante nel meccanismo di rapporto con le associazioni ecco come si deve lavorare grazie per invito diciamo la bpco questa patologia è un diciamo un esempio paradigmatico di una patologia che richiede una forte integrazione tra il livello dell'erogazione dell'assistenza territoriale e quella ospedaliera è una patologia che dal punto di vista farmacologico abbiamo molte opzioni terapeutiche molti prodotti anche con caratteristiche un pochino differenti l'uno dall'altro che richiedono da una parte un'assistenza e un'opportuna informazione del paziente ma che dall'altra ovviamente intervengono in un percorso di cura in cui la patologia nel singolo paziente può avere delle oscillazioni delle modificazioni anche importanti è una patologia che ha un impatto socio-economico fuori discussione ora è chiaro che noi siamo sempre molto attenti ad analizzare gli impatti sanitari di queste patologie ma non ci rendiamo conto che poi dopo i caregiver che sono attorno a questi pazienti rappresentano un impatto economico molto spesso in Italia molto più che in altri paesi sviluppati magari sono rappresentati dalla famiglia e quindi magari non ne viene percepito il reale impatto economico dal punto di vista della gestione regolatoria noi siamo intervenuti con una nota che ha cercato di mettere un po' ordine in questa diciamo della prescrizione di questi medicinali però temo che il vero la vera sfida qui sia rappresentata dai percorsi organizzativi e dal coordinamento tra il territorio è ovviamente una patologia che nel momento in cui inizia a mordere in maniera più grave ha bisogno certamente dell'intervento dello specialista non so se il vero problema sia la carenza di pneumologi secondo me il vero il vero problema è che probabilmente dobbiamo mettere la medicina generale che abbiamo molto trascurato negli ultimi dieci anni dobbiamo mettere la medicina generale il medico di medicina generale nella condizione di poter fare anche delle attività di diagnostica di primo livello insomma non credo che sia una cosa impossibile mettere nella condizione un medico di medicina generale di eseguire correttamente una spirometria questo può essere molto molto utile soprattutto per diciamo individuare quei pazienti che hanno in una fase iniziale magari un decorso di cui non hanno consapevolezza e quindi insomma in qualche modo per individuare precocemente dei pazienti ma potrebbero essere anche potrebbe essere anche utile questo coinvolgimento sia per quella maggiore prossimità col paziente per nell'alfabetizzazione rispetto all'uso dei diversi prodotti dei diversi erogatori ecco è stata molto gradevole l'intervento della signora appunto che lavora per l'associazione dei pazienti perché questo penso che sia un contributo importante dell'associazione dei pazienti in patologie come queste nella misura in cui ovviamente è in grado di favorire un percorso di comprensione di come funzionano e di come correttamente si utilizzano questi erogatori che a volte impattano su una popolazione fragile che ha una capacità molto variabile poi dopo di apprendere sia le posologie di uso di questi prodotti sia ovviamente il loro corretto uso ecco in questo percorso il tentativo della nota 99 in qualche modo è anche quello di cercare di rimettere un po' ordine e di ricordinare quello che è il ruolo della medicina generale nel percorso di presa in carico e di gestione della patologia della broncopatia cronica ostruttiva e ovviamente individuare quelle situazioni un pochino più complesse per il quale è necessario anche dal punto di vista farmacologico il coinvolgimento magari prevalente dell'area specialistica però non è da nascondersi che dietro il fatto che dobbiamo cercare di lavorare di più sull'organizzazione e di meno cercando di alleggerire un po' di più la parte burocratica perché altrimenti si rischia ovviamente di burocratizzare dei percorsi che viceversa devono essere dei percorsi organizzativi e quindi dei percorsi organizzativi che rimettano in collegamento ed in integrazione nella medicina del territorio con la gestione di patologie che ovviamente diciamo dobbiamo un po' uscire dal modello di una gestione che è questa patologia di questo specialista o di quest'altro ecco il dottor Marrocco ha ben rappresentato nel suo intervento il fatto che questi pazienti a volte sono dei pazienti con delle comorbidità che non necessariamente hanno una gestione esclusiva da parte del pneumologo ma che magari pur in presenza di una patologia respiratoria possono avere degli aggravamenti che impattano in maniera importante dal punto di vista cardiologico magari ecco è molto significativo il dato rappresentato dal collega che non so se ha anche in questo una diciamo dei dati che sono stati prodotti dalle società scientifiche cioè quello che è il rischio di mortalità dopo un evento di riapputizzazione in confronto al rischio di mortalità dopo un evento un primo evento di infarto del miocardio ecco questi sono dei dati che possono servire a dare un'adeguata percezione anche ai pazienti perché indubbiamente i nostri dati evidenziano una grande variabilità sia nella gestione dei singoli pazienti pur appartenendo alla medesima categoria un'ultima cosa da direttore dell'ufficio registri la vorrei dire rispetto ai dati dobbiamo fare molta attenzione noi in Italia abbiamo molti dati forse anche troppi il vero punto non è avere più dati ma ovviamente riuscire a capire bene a quali quesiti rispondere attraverso l'uso dei dati e qui devo dire che bisogna fare una grande distinzione tra quelli che sono dei dati che servono a comprendere in qualche modo e a dare delle risposte su quelli che sono i percorsi sanitari e i risultati che si hanno da tali percorsi nella pratica clinica da quelli che sono ovviamente dati sanitari che vengono generati all'interno del percorso di gestione amministrativa di queste patologie sono due cose un attimino sono due cose un attimino distinte e quindi che però danno prospettive diverse ecco però cerchiamo di diciamo prima di chiederci prima di chiedere i dati di chiederci ovviamente di interrogarci bene su quali sono i quesiti facciamo facciamo le domande giuste dottore che è quello che conta esattamente c'era qualcuno che non ricordo di cui non ricordo il nome che aveva anche un po' in qualche modo prima di me enfatizzato questo aspetto tra ovviamente dato e informazione insomma perché in realtà non è proprio vero che non ci abbiamo non ci abbiamo dati è chiaro che per esempio anche noi all'interno della piattaforma dei registri abbiamo in questo momento un medicinale che ha un'indicazione nella broncopatia cronica ostruttiva e che è soggetta a monitoraggio sono i dati che ci sono all'interno dei nostri registri vengono correntemente utilizzati per informare i processi decisionali dell'agenzia quindi c'è assolutamente un percorso che è già incardinato e che è già previsto magari non c'è una comprensione o una conoscenza diffusa di questi aspetti però diciamo che in Italia la concezione del dato come strumento per prendere decisione e quindi cercare di migliorare in qualche modo sia la qualità dei dati sia l'attendibilità dei dati in questa prospettiva è una percezione che in realtà soprattutto a livello tecnico è iniziata già ormai da diversi anni quindi non è questo il problema viceversa c'è un problema importante di individuazione di quelli che sono i quesiti a cui si intende rispondere bisogna fare le domande giuste dottor Russo la fermo perché è arrivata l'onorevole Simona Loizzo che è membro della commissione affari sociali della camera un breve saluto perché siamo in chiusura e poi le associazioni diranno che cosa vogliono portare per il futuro prego salve a tutti mi scuso per il ritardo legato al fatto che abbiamo votato finora alla camera io in termini di rappresentanza della commissione salute della camera dei deputati vengo qui per offrire il mio contributo ai lavori soprattutto in termini di comunicazione a tutti gli attori e le associazioni che noi abbiamo e credo serva assolutamente per quanto riguarda queste patologie di cui oggi parliamo costituito il gruppo interparlamentare di sanità digitale e di terapie digitali quindi in questo momento il gruppo interparlamentare di sanità digitale è molto attenzionato e diciamo a guida di Agenas per quanto riguarda l'osservatorio poi ha un gruppo tecnico scientifico e anche poi la consulta in cui sono presenti le aziende in questa formulazione dell'intergruppo credo che le patologie di cui parliamo oggi possono inserirsi e affiancarsi a noi per quanto riguarda tutto il contributo che la digitalizzazione può consentire in quest'ordine di patologia quindi io sono più qui per dirvi che ci sono e che oggi la sanità passa tutta attraverso la digitalizzazione però è anche vero che alcune patologie hanno bisogno di essere ricondotte a processi innovativi che non sono soltanto di tipo farmacologico ma anche di tipo terapeutico digitale quindi si stima che nel 2030 saranno circa 60 le nuove terapie digitali e moltissime per quanto ci dice anche Agenas riguarda la riabilitazione broncopromologica anzi uno proprio dei cardini che Agenas sta proponendo nella piattaforma di telemedicina oltre a riguardare la riabilitazione tutta in generale è dedicato proprio alla riabilitazione broncopromologica quindi non vi voglio assolutamente tediare ancora mi scuso per aver fatto tardi e speriamo che ci siano future giornate di incontro perché secondo me collaborando possiamo creare una sinergia che va nella direzione soprattutto dell'aiuto ai nostri pazienti grazie 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 all'onorevole Simona Loizio perché è stata una presa di impegno per le associazioni da parte della politica dicevamo all'inizio l'importanza di mettere assieme tutti i tasselli che possono costruire la rete che ci può aiutare abbiamo ancora quattro minuti Salvatore D'Antonio cosa portiamo tra quattro minuti equamente suddivisi tra Salvatore D'Antonio e Simona Barbaglia mi sembra che è venuto fuori l'impegno di intervenire su questa patologia e di intervenire in fase percoce non so se il dottor Russo si è scollegato perché appunto è particolarmente importante l'azione che ci dovrebbe ecco il dottor Russo ci siamo visti poco tempo fa già ci siamo ancora per qualche minuto sì appunto l'importante è che ci sia una possibilità di intervento in questi pazienti nelle fasi precliniche nelle fasi grigi della patologia e cercare di togliere quei legacci che purtroppo la burocrazia spesso sta impedendo di poter agire in maniera rapida su questi pazienti interrompendo una progressione di patologia ricordo che appunto proprio un risparmio si ottiene agendo in prevenzione sulla patologia ricordo sempre il discorso che riguardava gli inibitori di pompa gli inibitori di pompa anche se sono stati usati in maniera indiscriminata forse non corretta ma comunque si è dimostrato che l'uso di questi farmaci ha avuto un risparmio di 10 milioni di euro in cure chirurgiche ora usare bene la terapia in fase precoce significa far sì che ci sia un risparmio perché possiamo eliminare o ridurre le riacutizzazioni e possiamo ridurre quindi le spese di ospedalizzazione una curiosità rapida come associazione pazienti di bpco avete qualche piano d'azione di strumenti di cose per aiutare i pazienti in questo? Non lo stiamo facendo innanzitutto noi abbiamo portato sempre avanti il discorso della spirometria abbiamo fatto un video sulla spirometria perché riteniamo che la spirometria sia un'opportunità che noi diamo per fare emergere il sommerso della patologia purtroppo noi questo lo diciamo spesso che sta succedendo come una legge del contrappasso che questa spirometria è usata un po' in maniera così restrittiva e sta sommergendolo emerso questo è un discorso ci avvaliamo di pillole che distribuiamo sul nostro sistema youtube abbiamo fatto delle pillole di informazione abbiamo ricevuto in pochi mesi 340.000 visualizzazioni che vuol dire che c'è bisogno c'è bisogno di informazione c'è bisogno di conoscere Simona Barbaglia mi sono segnato poche parole chiavi alleanza tra tutti gli stakeholder come si è creata questa sera conoscenza perché quanto diceva adesso Antonio è fondamentale obiettivo avere un tavolo istituzionale che quanto meno porti tutti i pazienti ad avere le stesse prestazioni su tutta l'Italia che già sarebbe un bello obiettivo alla chiusura prego allora sicuramente ringrazio tutti per essere stati qui oggi dico all'onorevole Loizzo che sarà sicuramente accogliamo il suo impegno così come abbiamo accolto l'impegno di tutti di far sì che questa sia solo l'inizio della strada il nostro obiettivo noi associazioni avevamo un sogno che era quello di avervi qui tutti oggi di essere qui tutti insieme per avviare per riempire una stanza che poi operativamente porterà a lavorare tutti insieme ciascuno con il proprio ruolo ciascuno con la propria competenza per migliorare la qualità di vita di questi pazienti mi ha molto colpito che entrambi i pazienti che hanno parlato oggi sia Mario che Marco hanno detto hanno detto una parola io sono stato fortunato il che vuol dire che cosa vuol dire per questo fortunato questo fortunato sono stati fortunati perché sono stati tenuti inseriti tenuti da una rete socio sanitaria di cui anche le associazioni di pazienti hanno fatto parte e quindi sono riusciti a percepire e ad ottenere i benefici che questa rete porta al paziente e quindi con questa partenza di alleanza noi vorremmo che tutti i pazienti affetti da questa patologia in tutta Italia da qui in avanti possano sentirsi fortunati il che vuol dire inseriti in una rete in un tessuto in una alleanza accordata di servizi che possa rispondere ai loro bisogni indipendentemente dal luogo di residenza questo è quello che chiediamo a tutti voi che avete partecipato con noi oggi di fare insieme a noi verso una nuova gestione già che facciamo tutti il sogno tra due anni una nuova gestione senza affanni della BPCO tra ospedale e territorio il titolo di questa serata è l'impegno di tutti grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti